Un saluto da Tg della Mobilità. È tempo di cantieri lungo le metropolitane di Roma con un programma di interventi che interessa alcune stazioni delle linee A e B e che riguarda la sostituzione di scale mobili e ascensori, il rinnovo degli apparati elettrici e poi la sistemazione di alcune aree esterne. In particolare lungo la linea B della metropolitana da questa domenica sarà chiusa la stazione Policlinico per lasciare spazio alla sostituzione di scale mobili e ascensori. La chiusura di Policlinico andrà ad aggiungersi a quella di Castro Pretorio. In alternativa potranno essere utilizzate la stazione Bologna oppure le linee tram 3 e 19 o ancora le linee bus 61, 490, 495 e 649. Tutti i dettagli sul sito romamobilita.it